Dopo circa un decennio, la pallavolo internazionale torna a Napoli con la Vesuvio Cup, che si disputerà dal 27 al 29 maggio al Palabarbuto, un'occasione importante che rimette Napoli al centro dell'attenzione nazionale. Nell'impianto di fuorigrotta, capace di accogliere oltre 3.000 spettatori, si sfideranno i campioni di Italia, Argentina e Giappone, segnando il ritorno della maglia azzurra in città a 10 anni dal match di World League con gli Stati Uniti. Finalmente un evento straordinario, la Vesuvio Cup, avere tre nazionali di questo livello e avere dopo anni tre nazionali importanti, l'Italia che attendiamo, l'Argentina di Velasco, il Giappone, siamo contenti, lo riproponiamo in uno scenario nuovo, il Palabarbuto, che è agibile, completo, insomma diamo il meglio di noi per ospitare un evento importante e straordinario. La tre giorni della Vesuvio Cup sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali per coinvolgere adulti e bambini.